buongiorno ragazzi benvenuti in questo nuovo video oggi vi porterò nel mondo dello stunt riding e vi farò conoscere i miei compagni della crew braver rider ci vediamo presto buongiorno a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video oggi vi porterò con me e il mio stunt team in verità non mio ma della brave riders crew in una giornata di stunt riding e farò conoscere uno per uno i piloti siamo in una giornata occupata a fare delle riprese e delle foto in uno stand spot con le nostre nuove grafiche nostri nuovi kit di grafiche sulle nostre moto le moto che useremo nei vari eventi in giro per tutta italia quindi ci vedrete un po dappertutto se mi seguite e seguite gli aggiornamenti che mandiamo sia qua e gli aggiornamenti che mandiamo su brave rider più adesso dobbiamo fare delle foto velocemente e subito dopo vi mostrerò uno per uno tutti i piloti no ragazzi necnici e dentro mi dispiace per i grand i cruci tedeschi marcio sempre di noi siamo alla sua vecchia scuola pensa che rivincita fra tu vieni qua nella tua vecchia scuola a far pezzio con la moto allora ha ragione ha ragione anche perché i miei professori quando sono uscito dal motorità gli ho detto voglio andare in moto non voglio cucinare perché questa è una scuola di cucina mi hanno preso per scemo adesso siamo nella scuola in moto e chi è lo scemo quindi questa è diventata un'intervista doppia con voi due usaberg e yz giapponese austriaca romagnolo e un io non lo so mantovano più o meno si mantovano dai mantovano ok da quanti anni avete entrambi 19 e 20 adesso dovete dirmi il primo motto che vi viene in testa mi fa la figa so io gas a pari come quello dell'acceleratore dai della moto non passiamo la figa che poi amiamo rosa nel dubbio gas aperto post qual è il vostro trick preferito circle circle anche a me ovviamente però vabbè adesso un po più specifico fare in silbo mai stopi non so stop i cangari un circolo e lo stop non so a me piace un sacco quando faccio il circle stare su un circolo e girare a caso fare dei caricati in giù che sei basso poi arrivi che fai il death spin e ti alzi strafigo no ha risposto due per me qualità qualità a me per me è il death spin e avete da dire qualcosa al pubblico youtube non so iscrivetevi al canale di nick mi raccomando a sto punto andate a seguire su instagram in verità dovevate spammarvi voi aspetta aspetta adesso lo mettiamo in difficoltà qui esattamente qui sarà verso stand rider e qua beta boy vai 3 vabbè allora presentatevi voi dite voi quello che avete da dire bella sono luca comi bella sono cristian mazzoleni voi da quanto tempo impennate in moto due anni più o meno due anni ma quanti anni avete voi io 16 io 15 siete più giovani nonostante il 2005 io 2004 questo è il nostro futuro loro ci porteranno in alto che moto avete entrambi suzuki 50 valenti hm 50 siccome vuole dirvi qual è la sua impennata preferita adesso chiediamo qui qual è il suo tipo di impennata preferita circolo con l'embrake tutti circolo qua e circolo da seduto e grattare la mano circolo seduto grattare la mano avete qualcosa da dire al popolo di youtube seguite nicolas ci va come sbagliate tutti cavolo dovete spammarvi quindi chiudete pure in qualche modo seguitemi tutti luca due trattini bassi comi cristian trattino basso mazzoleni 14 adesso andiamo a intervistare loro due samu e fabri ciao a tutti e vediamo i loro ideali ciao ragazzi sono samuele però per amici sangue per amici sangue o ktm un po vecchiotto però va quindi nonostante i pezzi che perde mentre vanno io sono fabri per gli amici fabbrica patina e 99 e quello il mio mezzo ormai secolare che solo facessi vedere però è un attimo ragazzi allora voi da quanto tempo impennate io da 2018 2015 da tanto tempo cavolo mi accompagna nell'avventura da tanto da quanto tempo siete dentro a brave rider più no quando è nata quindi nel 23 agosto 2017 no io sono stato un acquisto successivo tipo due annetti sono dei voi cosa preferite fare impennare o scopare scopare impennando esatto qual è il vostro trick preferito non so il nome preciso però arrivo sgommo mi giro un po e poi impenno e faccio un circolo da seduta i miei hand scrape e no hands quindi volete salutare se insisti e resisti raggiungi i conquisti quindi andate forte e che arriva tanta figa va bene così vuoi salutare vuoi dire qualcosa no posso così non voglio aggiungere note ragazzi ci becchiamo ed infine andiamo a vedere le ultime due moto del team cioè la mia e quella del capo del team cioè il presidente diciamo no presidente a tutti gli effetti è presidente a tutti gli effetti cosa manca manca che non so stantare io raga andiamo a vedere anche la sua moto perché vi racconto un aneddoto io questa moto l'ho grattata tempo fa lui mi aveva lanciato una sfida mi aveva detto secondo me non riuscirai a grattarla perché era bagnato non avevo avevo la bobina che non mi staccava la corrente quindi quando andava a candela si spegneva capito però la grattata però la grattata come lui mi ha detto gratta la targa e io va bene grattiamo la targa il problema è che sono andato a grattare oltre che la targa ho grattato il codino e sotto il codino c'erano i cavi del faro delle frecce è successo questo che ne abbiamo strappato due anni che sono così rotte ma questa è la sua moto è un bel gas gas enduro e jacopo te qualcosa da dire invece raga nick parte la famiglia oggi ufficialmente ufficialmente da oggi dentro a brave rider crew ci vedremo a verona tra qualche mese 27 28 gennaio tip e poi altri show in programma allora forse una settembre se il covid non lo fa saltare marzo 2021 16 17 erba giugno 2021 luglio 2021 e forse se il fatto vuole il raduno il raduno ok c'è anche un emballo ecma vediamo ecma ma comunque tenete conto che qua si fanno cose serie certo che abc un nome una garanzia commentate con cosa vorreste vedere nei prossimi video vi ho dato una semplicissima introduzione del nostro stand team che appunto volevo farvi conoscere così che se l'avreste visti nei miei prossimi video appunto ora li conoscete già e sapete cosa facciamo cioè eventi spettacoli e raduni in giro per tutta italia siamo la brave rider crew ed nch è tutto noi ci vediamo prossimo video appunto come dicevo commentate lasciate un bel mi piace e nada alla prossima ciao